Come sta? Ministro Locatelli, la sua è una delega per cui tanto se ne fa e tanto bisognerebbe farne. La sua è venuta a Fano, siamo in periodo elettorale, lo sappiamo, ma ha un preciso obiettivo? Beh, sicuramente quello di incoraggiare anche un cambio di passo nelle amministrazioni, locali, poi io dico sempre anche regionali e nazionali. A livello nazionale stiamo cercando di farlo proprio con la riforma sulla disabilità. L'introduzione del progetto di vita coinvolgerà direttamente i territori in un modo diverso di lavorare, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni, perché oggi la persona con disabilità e la sua famiglia si devono rivolgere a tanti enti, attendere, aspettare. Poi la parte sanitaria è divisa da quella sociale, che è divisa da quella social sistematica e che è divisa dal resto dell'attività ricreativa e sociale della persona. Noi vogliamo superare queste frammentazioni e col progetto di vita sedere tutti gli enti intorno alla persona, a partire dai suoi desideri e dal suo diritto di scegliere, come è previsto dalla Convenzione ONU, e scrivere il progetto di vita, che deve essere attivato, quindi nel merito dei servizi, direttamente lì. E ritiene ancora funzionale la suddivisione del territorio in ambiti? Beh, gli ambiti sono previsti per legge e da lì passano anche le risorse. Certo, sarebbe meglio che coincidessero anche con la parte sanitaria, perché da 30 anni parliamo di integrazione socio-sanitaria, adesso con la riforma sulla disabilità intendiamo superare tutte queste frammentazioni e quindi più lavoriamo nella stessa direzione e più riusciamo a dare delle risposte mirate ai bisogni delle famiglie. Ministro, l'attenzione dell'assistenza non dovrebbe essere solo il disabile in sé per sé, ma anche la famiglia, che spesso si prende cura appunto di queste situazioni e spesso le famiglie sono lasciate in abbandono. Assolutamente sì, adesso sono tanti anni che si cerca di dare anche una cornice normativa di riconoscimento alla figura del caregiver familiare e io dico sempre anche convivente, perché la persona che 24 ore su 24 segue un proprio caro con una disabilità, con una malattia cronico-degenerativa gravissima, insomma con problemi complessi, sicuramente ha un impegno che sicuramente la impegna nell'amore e nella cura, ma anche con tanti sacrifici. E quindi io direi che è arrivato il momento di dare la risposta, abbiamo istituito un tavolo interministeriale col Ministero del Lavoro, proprio perché nei prossimi mesi vogliamo portare una proposta concreta che possa fare l'iter parlamentare e sciogliere quei nodi che in tanti anni non si erano ancora riusciti a sciogliere. Però sicuramente il tema è dare una risposta alle persone che amano, che curano, che non vogliono essere sostituite ma accompagnate in questo percorso. La presenza del Ministro Locatelli a Fano, un Ministro della Lega, evidenzia anche l'attenzione che il centrodestra a Fano dedica al problema della disabilità. Lucas Filippi, i propositi per i prossimi cinque anni? A nostro avviso c'è tanto da fare a livello comunale. Innanzitutto bisogna attuare il PEBA, il piano di abbattimento e di eliminazione delle barriere architettoniche, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche, sia per quanto riguarda le strutture private. Innanzitutto, inoltre bisogna, senza indugio, far coincidere l'ambito sociale con il distretto sanitario. Questa sarà un'altra riforma epocale che dovremo portare avanti insieme a tutto il terzo settore. Le associazioni chiedono coprogrammazione e coprogettazione.